Erfaina ha detto la sua sul catcalling La fantastica, per due fischi il catcalling I fischi, i commenti sessisti, mi fa schifo Ma che c'è il manuale di rimorchia? C'è stata l'evoluzione della specie, non siamo più delle bestie Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato a un argomento molto importante Il catcalling Erfaina ha detto la sua sul catcalling Sarà vero? Sarà falso? O sarà che Erfaina ha detto delle assurdità? C***o Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte Le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash E purtroppo anche su queste assurdità dette Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio Tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Il video di oggi ragazzi è un video molto importante Secondo me è un argomento che era giusto portare qua sul canale È giusto parlarne anche perché secondo me se ne parla poco Se se ne parla, beh, non se ne parla abbastanza Ci capita sempre più spesso di parlare di violenza sulle donne Violenza contro le donne Ed oggi siamo qui proprio per mettere un tassello in più su questo macro argomento Questo perché oggi andremo a parlare del cosiddetto catcalling Sì ragazzi, avete capito molto bene Se non siete esperti di questo argomento Se comunque non conoscete quello che è appunto il catcalling Ve lo spiego veramente in due righe In maniera molto semplice Sostanzialmente con questo termine Si vanno ad indicare tutte quelle molestie che avvengono per strada Vi faccio proprio un esempio molto semplice Il più banale, quello che sicuramente avrete già sentito dire da qualcun altro Catcalling potrebbe essere questa situazione Una ragazza sta passeggiando, sta camminando tranquillamente nelle vie della sua città E ad un certo punto una persona le fischia Le fischia come per dire Wow che bona, wow che bella Però ovviamente in maniera molto secondo me rude E poco rispettosa, non educata Perché non si fischia neanche ai cani ragazzi E perché si dovrebbe fischiare ad una donna, ad una ragazza, ad una bambina Perché ovviamente poi ci sono tutte queste varie sfaccettature del catcalling Che vabbè insomma non approfondiamo in questo momento Quindi catcalling, tu sei in giro, ti fischiano per dirti sei bella Però purtroppo non è un complimento E tutt'altro tranne che un complimento Non è una cosa da fare, qua siamo qui per dire soprattutto questo Questo argomento in questi ultimi giorni è stato molto, molto chiacchierato qua sul web È stato chiacchierato in tv e soprattutto sui social Grazie ad una persona che si è sostanzialmente fatta portavoce di quella che è stata la sua esperienza Perché parliamo di Aurora Ramazzotti Lei, lo sapete, insomma, super seguita sui social Super amata ma anche super chiacchierata in questi ultimi giorni Questo perché ha raccontato in alcune stories che adesso andremo a vedere Quello che le è successo e quello che soprattutto le succede sempre più spesso Nel momento in cui esce di casa E insomma va a fare jogging, una corsetta, esce semplicemente Bene, lei ha raccontato quello che spiacevolmente le è successo Perché ormai non si può neanche più andare a fare una corsa in giro per la strada All'aria aperta senza passare sotto gli occhi di gente disumana, subumana che ti fischia E insomma questo è quello che ha raccontato Guardate Il mio look è in questo momento quello di un teletubbies sportivo Però vabbè vi devo dire una cosa seria Ragazzi ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora di frequente tra l'altro il fenomeno del catcalling E se non sapete cos'è il catcalling vi lascio la definizione qui Comunque, cioè sono l'unica che ne è vittima costantemente Nonostante io sia anche una che di solito si resta un po' da maschiato Ma appena metto una gonna O come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa un cacchio di caldo Io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze A me fa schifo, mi fa schifo E se sei una persona che lo fa e stai vedendo questa storia perché ti arriva in qualche modo Sappi che fai schifo I fischi, i commenti sguaiati sono solo una parte di quello che è il catcalling Perché in realtà ci sono tante ragazze e tante vittime di catcalling Ma anche uomini perché in realtà e qua voglio fare giusto una piccola parentesi Diciamo che queste sorte di molestie o queste sorte di violenza ovviamente valgono per tutti quanti ragazzi Perché se siamo nel 2021 e continuiamo a credere che certe cose riguardino solo le donne Certe cose riguardino solo gli uomini Non abbiamo capito niente La violenza è violenza appunto e basta E credo che tutte le persone vadano rispettate in quanto persone In quanto in realtà dovremmo avere una minima, un bricciolo di educazione Che ci fa capire che forse dobbiamo comportarci bene con gli altri Indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'orientamento sessuale Indipendentemente da tutto questo, chiunque merita rispetto Quindi diciamo che il catcalling ragazzi Noi adesso stiamo facendo degli esempi che riguardano le donne Ma sicuramente, anzi ne sono certo, ce ne sono anche alcuni che riguardano gli uomini Detto questo, insomma tutto questo per dirvi che cosa Comportatevi bene perché come ha detto giustamente Aurora Ramazzotti Se fate queste cose, se fischiate alla gente, se urlate A bono dalla macchina Capite bene che siete delle persone insomma non tanto registrate Ma soprattutto non tanto rispettose per gli altri Perché ci sono appunto altri altri modi per corteggiare, rimorchiare, abbordare Insomma vedete voi come definire questa cosa Le persone di certo non è fischiando Come si fa con i cani che poverini I cani secondo me hanno più, insomma Meritano più rispetto di questi subumani che invece fischiano Quindi lasciamo perdere Detto questo, lei ha raccontato la sua versione dei fatti Aurora Ramazzotti ci ha raccontato quello che è successo Si è fatta portavoce di una tematica molto e molto importante Ma arriviamo a questo punto Lei ha raccontato la sua versione dei fatti La sua personalissima esperienza Ma ovviamente è stata criticata Ci sono tante persone che l'hanno difesa Che si sono fatte, diciamo, protagoniste anche di quello che è stato il racconto di Aurora Però è anche vero purtroppo che sui social Sapete no? Ci sono gli haters, ci sono le persone che invece si sostengono Ed oggi parliamo ancora una volta di haters Ma in realtà più che di haters parliamo proprio di persone cattive Perché ad un certo punto che cosa succede? Queste parole di Aurora Ramazzotti, il suo racconto Vengono riprese, insomma, da tantissime testate online Primo fra tutti è stato anche il Corriere della Sera Che ha pubblicato diversi articoli Diversi post sui social E proprio sotto un post del Corriere della Sera Iniziamo a leggere le prime critiche Soprattutto le prime offese anche Rivolte a Aurora Ramazzotti Ad esempio Ma, insomma, ma chi se la fila questa? Ma chi ti fischia per strada? Della serie Sei un po' brutta Sei un cesso a pedali Chi te cagano? E già qua, non so ragazzi Per me è follia pura Perché se una persona sta raccontando una cosa Che l'ha ferita E che l'ha ferita profondamente E che soprattutto ha vissuto sulla sua pelle L'ultima cosa, secondo me, da fare È appunto Andare a criticare questa persona Andare a sindacare quello che può essere Il pensiero, il sentimento L'emozione provata da quella persona Che sicuramente non ha passato un bel periodo In quel momento Non ha passato sicuramente dei bei momenti Per colpa di alcuni stupidi Che fanno queste cose Detto questo Aurora Ramazzotti Di fronte a tutto questo Diciamo che ha deciso di rispondere Ma più che altro ha deciso Tramite i suoi social Tramite le stories di Instagram Di far vedere quello che era Il suo stato d'animo attuale Dopo aver letto Queste critiche Ma soprattutto questi insulti Del tutto gratuiti Guardate Sono i commenti sotto al post Del Corriere Che ha ripreso le mie parole di ieri Sul catcalling Non so perché Ma questa volta Fa più male del solito Sarà che forse È un fenomeno Che sì Mi riguarda Ma riguarda Veramente Tantissime donne E alcune Alcune lo vivono Molto peggio di me Alcune Non escono più Non fanno certe strade Non si vestono più In una determinata maniera Per colpa di questo fenomeno E non sono neanche gli uomini Che riducono tutto L'aspetto fisico Addirittura Sembra che Ci siano dei requisiti Per essere meritevoli Del catcalling E che io Non ce li abbia Perché in quanto cesso Non me lo merito No? Chi mi fischia Del resto Sono le donne Che mi sconvolgono Come fai A dirmi che piangevo Da ragazzina Perché ero brutta E adesso mi lamento Perché mi fischiano E mi dicono Che sono figa Come fai? E sapete perché Ho letto quei commenti? Perché volevo capire Come percepivano Questo messaggio Le persone che non mi seguono Perché finché leggo I miei messaggi Comunque Bene o male Siete persone Che condividono Quello che Quello che dico Lì ho anche un po' Ho un confronto Con la realtà E per quanto io sappia Che mi stia facendo Del male a farlo Comunque mi serve È costruttivo Ma in questo caso Non mi aspettavo Minimamente Che si riducesse Di nuovo Tutto all'aspetto fisico Io non mi sognerei mai Neanche di pensarla A una cosa del genere Di un'altra donna Quindi lontanissimo Da me Però mi rendo conto Che non siamo pronti Per l'avanzamento Che così Non andiamo da nessuna parte Perché se non ne posso Neanche parlare io Che ho un seguito Di un fenomeno del genere Chi lo fa Per non parlare Della costante accusa Di fare ogni singola cosa Solo per farmi pubblicità Come se io Ritenessi opportuno Utilizzare una tematica Del genere Per farmi pubblicità E non magari Per parlarne Perché non ne parla nessuno Perché c'è ancora gente Che in televisione dice Sono solo complimenti Oppure se non lo facessero più Mi dispiacerebbe Perché questa è la verità Che non è un'opinione mia Dovrebbe essere scritto Nella casa di legge Che un uomo Non può vedermi per strada Fischiarmi Come se fossi un cane E farmi commenti sessisti Non è un'opinione Concludo prendendo in esame Questo commento E non prenderla sul personale Poteva essere il tuo Come quello di tanti altri Ma ho scelto il tuo E ti porta a un ragionamento Visto che tu così Stai ammettendo Che io Non essendo figa Non me li meritavo Quei fischi Ma se fossi stata più figa Forse me li sarei meritati Possiamo ammettere Tutti insieme Di essere arrivati A un punto così basso Che addirittura Le cozze Vengono fischiate Ricevono commenti sessisti Che il problema Merita di essere risolto No? Ora basta Avevo bisogno Di sfogarmi un pochettino Di condividere con voi Qualche pensiero So che tra i miei follower C'è tantissima gente intelligente Che riesce a vedere oltre E vi ringrazio per questo E soprattutto Non perdo la voglia Di parlare di certe cose Anzi ho un sacco di Idee in mente Per fare sempre più bene Quindi E come vi dicevo prima Secondo me Di fronte a questi racconti Così forti Di fronte al fatto Che una persona Si stia aprendo E stia raccontando La sua personale Esperienza Io credo Che non ci sia bisogno Di spargere odio Che non ci sia bisogno Di giudicare sempre Le persone A volte Bisogna semplicemente Secondo me Ascoltare E capire Come si può risolvere Questo problema Perché il catcalling È un problema ragazzi Non è Una cosa da nulla Una cosa stupida Una cosa Da femministe Perché Si dice spesso No Eh Queste nazi femministe Ragazzi Volere rispetto Da parte di una persona Uomo o donna che sia Non è essere nazi femministe Essere semplicemente Delle persone Che vogliono Un pochino di rispetto Che non è di certo Come vi dicevo prima Fischiare a qualcuno Per strada Punto Quindi secondo me A volte dovremmo Semplicemente Provare Compassione Compatire Quelle che sono Le emozioni Che vive una persona E non lo dico In senso negativo Perché compatire qualcuno Di solito Ha un'accezione negativa Io mi rifaccio proprio E qua non è che voglio Fare il professore Perché ragazzi Lungi da me Volerlo fare Ma il significato Della parola Compatire Compassione Significa Cum Pati Cioè Insomma Essere Vivere Sentire Il dolore Degli altri E partecipare Al dolore Degli altri Solo così Possiamo capire Quelle che sono Le emozioni E soprattutto Il disagio Magari anche Il dolore Provato da una persona Quindi provate Forse a mettervi Nei panni Della persona Che subisce Una cosa del genere Poi magari Ne riparliamo Questo è un primo passo Verso il rispetto Per gli altri Detto questo Andiamo avanti Perché ovviamente Sì La nostra Aurora Ramazzotti Ha detto Quello che pensava Ha raccontato La sua esperienza Personale Ma C'è un ma Grande quanto Una casa Come sempre Perché dico così Beh perché Di lì a poco Le sue Stories Le sue parole Il suo racconto Sono arrivati Anche agli occhi E alle orecchie Di qualcuno E non soltanto Degli haters Che abbiamo visto Prima Ma Anche di un noto Personaggio Sul web Che diciamo Si è fatto riconoscere In questi ultimi anni Per essere L'urlatore Dei social Per essere Una persona Sopra le righe In senso Negativo Positivo Vedete voi Ragazzi Non sta a me Giudicare queste persone Fatto sta comunque Che le parole Di Aurora Ramazzotti Sono arrivate anche A Damiano Erfaina Tutti quanti voi Lo conoscerete sicuramente Non soltanto Per i video Che pubblica Qua Sul web Che fanno abbastanza Discutere Ma anche per la sua Partecipazione A Temptation Island Credo VIP Se non mi sbaglio Detto questo Che cosa succede? Beh Damiano Erfaina Come spesso fa Decide di pubblicare Delle stories Credo In cui Diciamo Dice la sua Che nessuno ha chiesto Sull'argomento Catcalling E lo fa in maniera Per il momento Non voglio esprimermi Voglio farvi semplicemente Vedere le stories Che ha pubblicato E quindi Il suo discorso Sul catcalling Fatto A modo suo Guardate Se uno Che ne so Se è apparseggiato E viene là De rompe pover Lo posso capire O Tenzu Ma se uno Ma che c'è Il manuale De rimorchia Ma uno Passa Che ne so Vede tu belle gambe Almeno Quando ero piccolo Io Faci La fantastica E mica Ti ho detto Vaffan Brutto C'è Ma Io Il catcalling Per Il catcalling Per due fischi Per due fischi Il catcalling Io Non so Do cazzo Andremo a finire Io lo ripeto Perché poi Non voglio Se qualcuno De cacacare Che viene là Ti tocca Ti faccio D'accordo Con te Ma se uno Ti dice A bella E batte E die grazie È sottointeso Che il mio Discorso di prima Vale Per i ragazzi Ovviamente Certo che se Una dei 16 anni Gli si affianca A uno dei 60 Gli fa Bella Ma gli tiro Una scarpa Io Qualcuno è arrivato A dire Che io sono Un individuo Pericoloso Solo per il Semplice fatto Che io ho detto Che se un ragazzo Fischia E gli dice A bella Una ragazza Per strada Sono un uomo Pericoloso Regà Pericoloso Manco Facessi parte De Che cazzo Ne so Del cartello De Pablo Escobar Io non so Se ride O se piangere Tu Mi sei vato a vivere In Nuova Zelanda Sai qui Tipo Signore D'Anelli Mi sa che lì Non si offende Nessuno Ma beh Ragazzi Avete capito Ragazzi Io non posso dire Quello che ho detto Invece Loro Politicamente Corretti Possono dirmi Che mi devono Rinchiudere Altre persone Che mi augurano Di tutto E di più Non sto qui A mettervi La sfilza Di epiteti Che mi hanno fatto Capito Io non posso dire Quello che ho detto Mentre loro possono Fa tutto questo This is Italia Ovviamente Neanche a dirvelo Quello che abbiamo appena sentito Dal mio personalissimo Punto di vista Sono Un accumulo Di assurdità Ma non perché Io parto per partito preso Che non mi piace Il faina A me Non interessa Ragazzi Parto semplicemente Da quelle che sono state Le sue parole Perché dire Vabbè ma un fischio È un complimento In questo caso Non è solo Una visione semplicistica Di quello che è il catcalling Ma è proprio Una visione Completamente Errata Di quello che è Effettivamente il catcalling Perché Dietro quel fischio Che secondo te È un complimento Ci sono Delle vere e proprie Molestie Perché Quando una persona Ti fischia per strada E poi ti segue E poi ti guarda le gambe E si permette Di fare degli apprezzamenti Non richiesti In maniera maleducata Ed invadente Quello non è Fare i complimenti Quello è Importunare Una persona Punto Ricevere questo genere Di complimenti Come vengono chiamati Da Irfaina Non è sicuramente Edificante Anzi è degradante Queste cose possono portare Gravi danni A livello proprio Di autostima Di accettazione di sé Di tante altre cose Quindi insomma Diciamo che Queste frasi Abbastanza discutibili Anzi del tutto discutibili Sul catcalling Di Irfaina Che si vanno ad aggiungere A insomma Svariati scivoloni Fatti sulla LGBTQ Plus community Sulle scuole Che si aprono Oppure no Su tante tante altre cose Diciamo che insomma Non ci fanno Gioire Non ci fanno saltare di gioia Ecco Mettiamola così Fatto sta comunque Che le sue parole Ovviamente hanno Mosso gli animi del web E soprattutto Li hanno fatti Infuocare Come dico sempre Tant'è i fatti Che in tempo Letteralmente zero Il suo nome È balzato Primo in tendenza Su Twitter E questo non è un caso Perché ovviamente Quando ci sono delle polemiche Di mezzo Twitter è sempre presente Tant'è i fatti Che tante persone Lo hanno criticato Credo che lui Abbia anche Pubblicato Dei messaggi Nelle sue stories Insomma Di gente che diceva Rinchiudetelo Ma che sta a dire Un milione E passa di followers Buttati Ma sta gente È veramente seguita Bla 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 Ma Diciamo che A scagliarsi Contro Erfaina Contro le sue frasi Sessiste Se vogliamo anche Non sono stati Soltanto gli utenti Del web Ma Anche Alcuni VIP E Già qua vi dico Che parleremo Di un altro Macro argomento In un altro video Che uscirà domani Ma Per il momento Concentriamoci Su quelle che sono state Le parole Dette Da una vecchia conoscenza Di Aurora Ramazzotti E cioè Tommaso Zorzi Nonché suo amico Nonché Opinionista Dell'Isola dei famosi Che Di fronte a queste Cose aberranti Dette da Erfaina Ha deciso Di dire la sua E diciamo che Lo ha fatto Sempre con classe Sempre con L'odore di asfalto fresco Nell'aria Perché addirittura Ha anche parlato In maniera secondo me Egregia Impeccabile Di evoluzionismo Quindi insomma ragazzi Beccate questi spicci Guardate A questo punto Dopo aver pseudo chiarito Su una tematica Riguardo la comunità LGBT Con Erfaina Mi torna con questa cosa qui Diventa compassione Nel senso che Mi fa pena E mi dispiace Il fatto che lui Non riesca A elaborare un ragionamento Che abbia un senso Una donna non può essere Come dire Ridotta A un paio di gambe E questo può legittimare Un uomo a fischiarle per strada Voglio dire c'è stata C'è stata l'evoluzione Della specie Non siamo più delle bestie Mi rendo conto Che parlare di evoluzione Per quanto riguarda Erfaina È un po' Un iperbole Però quello che mi dispiace Non è tanto il fatto Che lui sia Più che ignorante È stupido È il fatto che lui Sia seguito Che lo rende pericoloso Cioè è questo Un po' Il punto E mi auguro Che prima o poi La gente possa capire Che sono soggetti Veramente pericolosi E uso proprio la parola pericoloso Perché non c'è una parola migliore Ed io ovviamente Non posso che essere d'accordo Con le parole del nostro Tommaso Zorzi Anche perché ragazzi Non siamo più veramente bestie Cioè adesso Parliamo proprio Sinceramente Siamo nel 2021 Siamo più o meno Tutti quanti Alfabetizzati Abbiamo un livello di civiltà Non dico Alto Mediocre Sufficiente A vivere in maniera Tranquilla Forse sì Forse no Questo punto mi viene da dire Perché insomma Forse c'è qualcuno Che ancora bestia Lo è E forse c'è qualcuno Che è rimasto Indietro nel tempo Ma giusto di qualche secolo Tipo della serie Che sento odore di Rivoluzione industriale Sento odore di Età della ruota Perché veramente Altrimenti non si spiegano Alcune frasi Alcuni ragionamenti Fatti da alcune persone E soprattutto Non si spiegano Questi fischi Come ai cani Che fanno Determinate persone Riguardo a Insomma Donne o uomini Che vedono per la strada Ed io mi chiedo Veramente Dove siano Cresciute Queste persone Per credere Che vada tutto bene Così Cioè va bene Fischiare ad una persona In giro per strada Non so voi Dove siate Cresciuti Nati Educati Ma insomma A casa mia Mi hanno rispettato Mi hanno Come dire Già mi incespico Perché per me è assurdo Anche fare questo ragionamento Però a casa mia Mi hanno insegnato L'educazione e soprattutto Il rispetto verso gli altri Non è di certo Fischiando alla gente Per strada Che si porta rispetto Detto questo ragazzi Il video Momentariamente Può finire qui Io vi aspetto però domani Con un video Abbastanza particolare Perché Ve lo ripeto Non è finita qui Insomma Ci sono delle novità Per quanto riguarda Erfaina Ci sono delle novità Anche per quanto riguarda Diciamo Alcune Reazioni Che alcuni personaggi Famosi del collegio TikToker Hanno avuto Riguardante tutta questa storia Quindi Io vi aspetto domani Con un nuovo video Il video di oggi invece Può finire qui Fatemi sapere Voi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Io vi ho detto Ampiamente Quello che penso Di tutta 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 Questa storia E aspetto I vostri commenti Il video può finire qui Spero tanto che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate Tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi Ci abbiamo provato Ciao